Combat Rock Band sbarca a Pescara il 13 agosto, questo evento molto atteso, cosa accadrà a Pescara allo Stadio del Mar? È una grande band, una band fatta da un centinaio grossomodo tra musicisti e cantanti. È un format che noi portiamo avanti da qualche anno, abbiamo fatto vari eventi, abbiamo iniziato facendo delle serate con delle tribute band che si sfidavano per modo di dire sul palco. Quest'anno faremo anche un evento del genere con due band, una che propone un repertorio Beatles e uno Rolling Stones. E poi nel corso del tempo è nata l'idea di coinvolgere i più possibili musicisti e cantanti della zona, professionisti e anche amatori. È nata questa idea di fare una grande band e proporre degli eventi in cui suoniamo dei repertori prettamente rock, anche un po' per sfatare il mito che sia una cosa di nicchia. Infatti tutti gli eventi hanno sempre una grande partecipazione di pubblico e si divertono dai bambini alle persone un po' più anziane. E quindi niente, ci saranno un centinaio tra cantanti e musicisti, batteristi, bassisti e chitarristi che suoneranno tutti assieme. Quest'anno abbiamo dato come tema quello degli ACDC, gruppo mitico australiano rock, che è un po' un gruppo conosciuto anche un po' per la semplicità, tra virgolette, della struttura. Quindi è abbordabile un po' a tutte le fasce d'età e anche a tutti i livelli di preparazione, anche se poi non è così semplice come sembra. Però è un repertorio che si presta molto a suonarlo tutti assieme in una grande band. Insomma sarà una giornata importante, una giornata di festa, una giornata che premierà la buona musica con tanti artisti che verranno da tutte le parti d'Italia. Speriamo proprio di raggiungere un risultato importante con tantissime persone che saranno protagoniste di questo evento perché miriamo nell'arco di un po' di anni di investire e di essere i primi in Italia in questa manifestazione.